A Palermo da quest'anno diminuisce la Tari, l'imposta comunale sui rifiuti. La riduzione generalizzata è compresa tra il 5 e il 7%. L'ha annunciato l'assessore comunale al bilancio Luciano Abbonato, illustrando a Palazzo delle Aquile il rendiconto di gestione 2014 del Comune, che la Giunta ha approvato insieme alle nuove tariffe della Tari. Dalla tassa il Comune quest'anno conta di incassare 122 milioni di euro contro i 128 del 2014. Il tariffario 2015, approvato dall'Aggiunta, adesso dovrà ricevere l'occhiaio del Consiglio Comunale per il via libera definitivo. Per quanto riguarda il calendario delle scadenze per il pagamento della Tari, ricordiamo che il 16 giugno scade il termine per liquidare in un'unica soluzione l'imposta. L'assessore Abbonato ha detto che le tariffe vigenti sono quelle del 2014 e chi entro il 16 giugno pagherà l'imposta in un'unica soluzione dovrà farlo secondo il tariffario di quell'anno. Nel frattempo il Consiglio Comunale dovrà approvare il nuovo tariffario, dunque a ottobre il contribuente, che ha già pagato la tasse in un'unica soluzione, avrà diritto al rimborso. L'uscita dal tunnel è confermata sotto il profilo finanziario, ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. La madre di tutte le sciagure, ha aggiunto, era la situazione di bilancio del Comune e delle partecipate. I conti sono in ordine, gli fa eco l'assessore al bilancio Abbonato. Abbiamo approvato il rendiconto 2014 in giunta. Siamo usciti dal tunnel, assicura, siamo in una condizione di equilibrio nonostante i tagli e trasferimenti per i comuni. E questo è avvenuto senza macelleria sociale. Ricorda come da mandato, ha aggiunto, comincerà a ridursi dal 2015 la fiscalità locale. La direzione di marcia, ha concluso, è chiara e non si torna indietro. La direzione di marcia, ha aggiunto, è chiara e non si torna indietro.